Erika Saraceni è stata a dir poco strepitosa agli EIOF, ovvero la manifestazione multisportiva dedicata agli Under 18 in Europa, perché è riuscita ad arrivare a loro grazie alla misura di 13,42 metri nel salto triplo, che rappresenta anche il nuovo record italiano di categoria allieve, cioè le Under 18, perché va a superare così di 10 centimetri quanto fatto da Ottavia Cestonaro nel 2012. E pensate che l'anno scorso Erika, classe 2006, aveva già partecipato all'EIOF, arrivando nona, mentre i campionati europei Under 18 era arrivata all'ottavo posto. E un 13,42 comincia a diventare una misura veramente molto importante per un allieva. Pensate che rappresenta prima di tutto un miglioramento di 55 centimetri sul primato personale. E poi con questo risultato passa dalla dodicesima posizione, che aveva grazie al 12,87 di quest'anno nel mondo tra le Under 18, fino alla terza posizione, cioè quest'anno tra le Under 18 ce ne sono soltanto due migliori di lei nel mondo. L'atleta dell'Uzbekistan Davronova, che è praticamente un'aliena che ha fatto 13,99, e la canadese Phillips con 13,55. Poi comunque se guardiamo la gradatoria all-time, entra tra le prime 100 della storia dell'atletica tra le Under 18, perché è al 63esimo posto, mentre per quanto riguarda l'Europa è la diciannovesima migliore di sempre. E quindi questo veramente è un traguardo eccezionale conquistato da Erika, che speriamo si confermi al più presto su queste misure, perché è riuscita comunque a fare diversi salti sopra i 13 metri nella finale del lay-off, dimostrando quindi che superare i 13 metri non è stato un colpo di fortuna di un singolo salto, ma è il suo attuale valore. Tra l'altro Erika in gara internazionale la rivedremo molto presto, perché dal 7 al 10 agosto si svolgeranno gli europei Under 20 e lei è tra le convocate, nonostante sia comunque un Under 18, quindi veramente un enorme riconoscimento per il suo valore che è diventato veramente di caratura internazionale. E se non vuoi perderti altri aggiornamenti ti invito a seguire Pellori di Atletica su ogni social possibile e immaginabile, oppure su quello che preferisci, perché bene o male sono ovunque, Instagram, YouTube e TikTok. Grazie mille se mi stai già seguendo e grazie altrettanto se lo farai da questo esatto momento. Bye bye!